Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Vediamo in questo filmato un computer italiano molto particolare prodotto dalla famosa scuola Radio Elettra. In particolare quello che vedremo in questo video è il computer basato su Z80 Elettra Computer System. La scuola Radio Elettra era una società fondata nel 1951 da un chimico torinese e da un ingegnere polacco che aveva come obiettivo quello di fornire dei corsi per formare dei tecnici elettronici in sostanza. In particolare circa nel 1983 ha prodotto questo computer Elettra Computer System che appunto veniva fornito a chi seguiva il corso da montare e chi lo acquistava appunto montava tutti i componenti e otteneva alla fine il computer finale che era realizzato con lo scopo di imparare l'assembly dello Z80 sostanzialmente. Il computer come potete vedere è questo qui. L'utente e il programmatore comunica con il sistema tramite questo tastierino esadecimale con alcuni tasti funzione e tramite display a sette segmenti. In particolare qui ve ne sono otto in tutto. Otto display a sette segmenti. Era possibile poi salvare eventuali programmi su cassetta. appunto il connettore qui è il jack per il tape in e il tape output per il registratore e poi volendo era disponibile anche un programmatore di EEPROM appunto da affiancare al sistema Elettra. Di fatto come idea è abbastanza simile a quella del microprofessor che invece era molto più comune in Germania ad esempio della Multitech. Ma andiamo ad analizzare il computer system di Elettra. Di fatto è composto da due schede vere e proprie. Questa qui che è la scheda appunto di input output possiamo dire e questa qui che è la scheda CPU vera e propria che può essere anche appunto rimossa. Qui sotto invece c'è solamente questa piastra per appunto con riportato il nome del computer e l'interruttore di accensione e spegnimento. La scheda CPU appunto possiamo riconoscere subito il processore. Qui lo Z80 in questo caso prodotto dalla Mostec. Poi qui sotto vi sono due EEPROM entrambe delle 2764 da 8 KB ciascuna. Una che contiene di fatto il firmware principale per il monitor dello Z80. US2 questa qui. Mentre questa dovrebbe essere una EEPROM aggiuntiva per gestire il registratore a cassette. Poi qui abbiamo un chip di RAM statica 6116, classico chip di RAM statica da 2 KB che però volendo può essere anche espansa la RAM. Infatti potete vedere che ci sono degli zoccoli liberi e appunto la RAM può essere espansa mi pare fino a un massimo di 64 KB oppure volendo si possono aggiungere anche delle EEPROM con il firmware appunto realizzato dall'utente ad esempio. Qui abbiamo una PROM modello 74S472 di cui ho anche fatto il Dump che sostanzialmente serve a gestire i vari chip select per i vari chip per le EEPROM, le RAM eccetera. Lo Z80CTC è il classico integrato della serie Z80 con funzioni di timer. Qui vi è il quarzo che genera il clock principale per tutto il sistema da 5 MHz che poi viene diviso con un circuito di pre-scale per fornire 2,5 MHz al processore. Infatti viene fatto lavorare, se mi ricordo bene, a 2,5 MHz. Il resto sono tutti integrati di supporto e buffer vari per, appunto, interfacciarsi con la scheda di input-output. Anche qui vi è una PROM sempre 74S472 e poi vi è questo integrato della, sempre della SGS, in questo caso Z80PIO che serve appunto a gestire periferiche di input-output sostanzialmente. Ecco, poi qui abbiamo un tasto di reset e qui dietro abbiamo il cavo di alimentazione per la 220 e un regolatore di tensione posto sul dissipatore. Ecco, possiamo vedere qui l'interno dell'Elettra Computer System. In particolare possiamo vedere che al suo interno è presente quello che è di fatto l'alimentatore e ci si può accedere rimuovendo le due schede che sono quelle che abbiamo visto, sono posizionate qui sopra e che ciascuna è tenuta ferma da quattro viti. In particolare qui possiamo vedere il trasformatore e qui possiamo vedere invece la scheda che di fatto costituisce l'alimentatore che è un comunissimo alimentatore lineare. Qui vi è la morsettiera dove si va a collegare l'interruttore di alimentazione poi qui invece c'è il led che segna che il computer è acceso e qui invece le tensioni che vanno fornite alla scheda principale con la morsettiera per collegare la scheda CPU di fatto. Appunto, potete vedere qui il trasformatore e in questa scheda un alimentatore ridotto appunto al minimo con dei diodi per raddrizzare la tensione del trasformatore condensatori e un regolatore di tensione posto qui dietro con dissipatore e qui ve ne è un altro, sempre regolatore di tensione con associati appunto i condensatori. Finché stavo pulendo il computer ho fatto una scoperta interessante praticamente sul retro della scheda quella con il display e la tastiera il tastierino numerico è riportato il logo della MESA MESA Engineering la MESA praticamente è la stessa ditta che penso fosse di Milano che ha realizzato anche la console MESATON che poi era venduta e distribuita dalla nuova elettronica con il codice LX446 e immagino appunto che questa scheda sia stata appunto progettata da loro dagli ingegneri della MESA. Ecco, possiamo vedere le lettere computer system da acceso in particolare possiamo vedere che scrive sul display 05-2 e un led lampeggia il 2 penso sia riferito al sistema operativo OS 2 però ora devo capire come fare per far partire dei programmi demo perché premendo i tasti il computer non sembra rispondere e sì appunto non so se molto dipenda anche da come sono configurati i jumper come potete vedere sulla scheda ci sono vari pin e praticamente in questi terminali qui inserendo dei jumper la configurazione della scheda madre della scheda CPU cambia un po' quindi c'è da capire ora come impostarli per appunto utilizzare il monitor e programmare lo Z80 in assembli o comunque caricare i programmi dimostrativi va bene spero che questo video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale YouTube grazie